Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Queste sono state le parole con cui Carlotta Dessi ha condiviso il suo stato d'animo nell'ultimo post su Instagram, dove per la prima volta ha espresso il timore di non farcela. La giovane giornalista Mediaset, dotata di un talento genuino, ha capito di avere poco tempo da vivere. Da quando ha scoperto di essere malata lo scorso agosto, le condizioni di Carlotta si sono rapidamente deteriorate nel corso di pochi mesi, nonostante le cure immediate e l'affetto profuso dalla sua famiglia, dai suoi cari e dai colleghi. Nel pomeriggio di martedì 6 febbraio, a soli 35 anni, Carlotta ci ha lasciato, diffondendo presto la dolorosa notizia attraverso il web. La giovane cagliaritana era un volto noto, giornalista televisiva Mediaset che ha lavorato per vari programmi del gruppo, tra cui Mattino 5, Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro. È stata particolarmente apprezzata per le sue inchieste condotte per la trasmissione di Mario Giordano. Recentemente, con grande forza e coraggio, Carlotta ha partecipato come ospite al programma nel quale era stata inviata negli ultimi anni. È stata la sua ultima apparizione televisiva, quasi un congedo. Nonostante le condizioni non fossero ottimali e fosse sottoposta a cure pesanti, si è presentata sorridendo e con ottimismo, nutrendo ancora la speranza di farcela, con Mario Giordano accanto a incoraggiarla. Un mese dopo la prematura scomparsa, i social sono stati invasi da un fiume di commenti, reazioni e ricordi. Tra coloro che hanno voluto dedicare un pensiero alla giovane giornalista c'è anche Barbara D'Urso, che l'aveva avuta come inviata a Pomeriggio 5. Ha postato un'immagine di Carlotta e le ha dedicato un messaggio, piccola Carlottina, per anni e anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio 5. Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte. E tutte e due pensavamo che ce l'avresti fatta. Sono molto triste e ti voglio tanto bene. Lascia anche tu un riposa in pace per questa tragica perdita a Mediaset. Ciao a presto.